Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. La storia di cui vi parlerò oggi è quella di uno dei più famosi casi di presunta possessione demoniaca avvenuti in Inghilterra. Prima di cominciare con il video vero e proprio però, voglio presentarvi Pumpling, lo sponsor ufficiale del canale. In pochissime parole, tramite il link che trovate in descrizione e inserendo il codice Andrew, potrete acquistare tutte le magliette che indosserò da qui in avanti. E niente, sappiate solo che c'è questa possibilità e che con il codice Andrew avrete anche dei calzini in omaggio. È troppo figa! Ma adesso possiamo partire con la storia di oggi. Siamo all'inizio del 1974, quando un 34enne di nome Michael Taylor lavorava come macellaio e viveva felicemente con sua moglie Christine e i loro 5 bambini in Hosset, una piccola città che si trova in Inghilterra appunto. L'uomo era descritto dagli altri come un ottimo padre di famiglia e un buon marito. Aveva un eccellente senso dell'umorismo e i vicini raccontano di come spesso, quando passavano davanti all'abitazione della famiglia, si potevano addirittura sentire le risate di Michael e dei familiari fin dalla strada. Insomma, una famiglia perfetta che è praticamente l'incipit di tutte queste storie assurde. E infatti, nell'aprile di quell'anno, tutto cambierà per loro. Michael, mentre stava facendo delle riparazioni alla casa, cadde da una scala, fece una brutta caduta e si fece molto male alla schiena. La ferita in sé non era nulla di troppo grave, ma questa gli provocò un dolore cronico sempre alla schiena e questo dolore cambiò rapidamente il modo in cui Michael si comportava. Cominciò a diventare sempre più triste e depresso a causa di questo dolore costante. Era così irritabile che la sua famiglia diceva di non potergli stare vicino, perché per qualsiasi cosa si infuriava e gli urlava contro. Non erano mai stati una famiglia molto religiosa, nonostante la maggior parte degli abitanti del paese a quel tempo lo fosse. Così, quando uno degli amici di famiglia viene a scoprire delle condizioni in cui si trovava Michael, gli disse che per curare il suo male e che non sarebbe mai andato via, avrebbe dovuto rivolgersi a Dio. Questo amico aggiunse anche che avrebbe dovuto provare a rivolgersi ad un gruppo di cristiani in particolare, ovvero il Christian Fellowship Group. Questo era, detta sua, un gruppo di preghiera per i cristiani più devoti. Si incontravano spesso, oltre alla classica messa domenicale, e gli disse però che la vera motivazione per cui anche lui lo frequentava era per il leader di questo gruppo. Il suo nome era Marie Robinson, ed era una ragazza di 21 anni. Era amichevole, energetica e molto carismatica. Aveva questo modo incredibile di far sentire tutti i suoi membri come parte di qualcosa. Secondo lui, quindi, Marie poteva aiutare Michael. E lui si fidò. Il 12 settembre dello stesso anno, Michael va nella chiesa nella quale il gruppo teneva gli incontri. Entrato nell'edificio, vede che c'è un gruppo di circa una ventina di persone sedute in cerchio, che appena lo vedono, si alzano immediatamente tutti in piedi, aprendo le braccia e invitandolo a raggiungerli. Una volta raggiunti, il gruppo era molto amichevole. Continuavano a ripetergli benvenuto, benvenuto. E lo fecero sentire accolto, a casa. La donna di cui l'amico gli aveva parlato, e che doveva essere il leader del gruppo, era lì in mezzo, e aveva un sorriso stampato in faccia. E gli disse subito di accomodarsi vicino a lei, e che era lieta di averlo tra di loro. Michael si siede quindi vicino a lei, e dopo poco cominciarono tutti a pregare, guidati da Marie. E la cosa assurda è che dopo qualche minuto dall'inizio, il dolore che Michael sentiva ormai da tempo alla schiena, misteriosamente scomparve. Si sentiva di nuovo felice, ma quando l'incontro finì e Michael tornò a casa, ecco che il dolore e la tristezza ricomparvero. Era come se l'unico posto in cui riusciva ad essere felice e a dimenticarsi di quel dolore costante fosse quando era insieme al gruppo. Durante le settimane successive andò a tutti i loro incontri, e durante questo periodo si avvicinò molto a Marie. Sembrava che anche Marie si fosse avvicinata molto a Michael, al punto che i due rimanevano a parlare e a pregare, anche dopo che gli incontri erano terminati e tutti gli altri erano andati via. La voce di una relazione tra i due cominciava a girare all'interno della chiesa, per poi dopo poco tempo circolare anche nel paese. Non ci volle molto infatti perché queste voci arrivarono a sua moglie. Lei sospettava già qualcosa, perché ormai erano settimane che il marito non faceva altro che parlare del gruppo e di questa ragazza di nome Marie. Il primo ottobre quindi, Christine aspetta che il marito esca per andare ad una delle solite riunioni, per poi seguirlo con la sua macchina. Arrivati alla chiesa, la moglie si precipitò dentro per cercare la stanza dove si tenevano queste riunioni. Appena trovata, irruppe dentro sbraitando contro Michael, dicendo che sapeva che aveva una relazione con Marie e che ora doveva metterlo di fronte a tutti. Michael era seduto, dando le spalle alla moglie, e mentre la moglie urlava e sbraitava, si alzò di scatto, ma invece di rivolgersi verso di lei, si girò e guardò dritto negli occhi Marie, che cominciò ad urlare. Quest'ultima, in seguito, ha anche detto che Michael non le sembrava umano mentre la stava guardando, e appena qualche secondo dopo, Michael cominciò a parlare una lingua che nessuno di loro sembrava conoscere. Tutto stava accadendo così velocemente, in pochissimi secondi, e prima che qualcuno riuscisse a fare qualsiasi cosa, Michael incominciò a correre attraverso la stanza, come se volesse attaccare Marie. Tutti i membri del gruppo, appena videro che stava per attaccare Marie, si fiondarono verso di lui e riuscirono a bloccarlo. Anche se loro erano circa una decina, facevano fatica a tenerlo. Continuava a parlare in quella lingua e dimenarsi in maniera brutale, cercando di sfuggire dal gruppo che lo stava tenendo. A quel punto Marie, improvvisamente cominciò anche lei a parlare nella sua stessa lingua. Solo a quel punto lui si calmò, e cominciarono a parlare insieme. Il gruppo era spaventatissimo, e cominciarono a pregare, mentre i due continuavano a parlare in quella strana lingua. Dopo circa un'ora, Michael perse i sensi, e collassò sul pavimento. Dopo poco si svegliò confuso, e senza ricordarsi nulla di quello che era appena successo. Gli altri pensarono subito che Michael fosse stato posseduto da un demone. Secondo loro, si era impossessato del suo corpo, e pensavano che a quel punto l'unica cosa che lo avrebbe aiutato, sarebbe stato fare un esorcismo. Tornarono quindi tutti a casa, e il giorno seguente, Marie si mise in contatto con alcuni esponenti della chiesa anglicana, per richiedere un esorcismo. Racconta loro quello che era accaduto, e prontamente, il giorno successivo, mandarono quelli che erano considerati i due migliori esorcisti dell'epoca, reverendo Raymond Smith, e reverendo Peter Vincent. I due andarono a casa di Michael, per osservarlo, e dopo averlo visto, dissero subito, che era sicuramente posseduto da almeno un demone, se non più di uno. Così, il giorno dopo, esattamente il 4 ottobre, Michael, insieme a sua moglie, si recò alle 10 di sera, in una chiesa, dove ad aspettarli c'erano Peter e Raymond, insieme al resto del gruppo. Michael era seduto in una sedia in mezzo a tutti. I due esorcisti a quel punto cominciano l'esorcismo pregando, e Michael, subito, inizia ad urlare, nella stessa lingua sconosciuta dell'altra volta. Dopo poco tempo, era disteso a terra, e iniziava a contorcersi, come se stesse sentendo un dolore fisico atroce. L'esorcismo era durato 8 ore, nelle quali erano stati obbligati a legare Michael, per farlo stare fermo, e impedirgli di fare male a se stesso, o agli altri. Erano tutti esausti, e Michael, dopo la fine del rituale, era svenuto, e giaceva a terra. Esattamente come la volta precedente, non appena si risvegliò, non ricordava nulla di quanto accaduto. A questo punto, gli spiegarono che l'esorcismo era andato quasi a buon fine, che erano riusciti a distinguere addirittura 40 demoni dentro di lui, ma che purtroppo erano riusciti a scacciarne solo 37. Erano tutti troppo esausti per continuare, quindi si diedero appuntamento il giorno dopo, per finire quello che avevano cominciato. Michael e la moglie tornarono a casa, ma appena un paio di ore dopo, una vicina disse di aver sentito qualcosa di strano, proprio fuori dalla loro abitazione. Sembrava che qualcuno stesse urlando, così si affacciò alla finestra, e vide Michael completamente nudo e ricoperto di sangue, che stava urlando qualcosa di delirante su Satana. La vicina a quel punto chiama la polizia, che li raggiunge subito. Lo trovarono steso in posizione fetale, mentre rideva come se fosse un bambino. Lo immobilizzarono e chiamarono i rinforzi. Michael si riprese, e come se fosse uscito di nuovo da uno stato di trance, riprese coscienza e... non ricordava nulla. Gli fecero allora delle domande su quello che ricordava, chi era e dove viveva. Lui rispose tranquillamente, e una volta arrivati gli altri agenti, che avevano chiamato, andarono a controllare tutti insieme la sua abitazione. Così entrarono, e appena visto cosa si trovava all'interno, uno degli agenti scappò fuori, vomitando sul vialetto davanti casa. Quella che videro sarebbe poi diventata una delle scene del crimine più famigerate nella storia dell'Inghilterra. Quello che seguo ragazzi, è una descrizione più o meno dettagliata dei fatti. Come potete immaginare, si tratta di un uomo di video, quindi se siete sensibili a questi argomenti, vi invito a chiudere qui il video, e ci vediamo alla prossima. Ma comunque, entrando nei dettagli, poche ore prima, quando Michael e sua moglie erano tornati a casa dall'esorcismo, lui era ricaduto in una delle sue trance, e aveva cominciato a pizziare sua moglie. L'aveva scaraventata a terra, e con le sue stesse mani ha cominciato a strappare la lingua, gli occhi, e la pelle della faccia, lanciando i pezzi in giro per la stanza. Successivamente si cosparse il corpo con il sangue di sua moglie. Per fortuna, i loro figli in quel momento non erano in casa, ma c'era soltanto il cane, e purtroppo, uccise anche lui. Durante il processo che venne fatto a Michael, l'accusa e la difesa hanno incolpato la chiesa anglicana insieme a Marie e il suo gruppo, per averlo convinto che fosse posseduto da dei fantomatici demoni. Infatti, alla fine del processo, Michael verrà ritenuto non colpevole, per insanità mentale, e dopo soltanto due anni di cure psichiatriche, nell'ospedale di Broadmoor Hospital, e altri due in un reparto sicuro a Bradford, verrà rilasciato. Ad oggi l'uomo è libero, e continua a vivere nella stessa città, dove ha compiuto queste atrocità. E questa era la storia del demone, che vive ancora attorno a noi. Sono sicuro che a Michael vennero diagnosticati dei disturbi mentali, ma ancora tanta gente è convinta che non si trattasse di questo. Piuttosto, preferiscono credere che si sia trattato di una vera e propria possessione demoniaca, e in effetti la storia sembra suggerire proprio quello. Ma che cosa sarebbe successo se invece che rivolgersi a quel gruppo, si fosse rivolto a un professionista? Immagino che non lo sapremo mai. In ogni caso, che sia possessione, o malattia mentale, una persona innocente, ha perso la vita. E questo è già spaventoso di per sé. Bene ragazzi, io per oggi non ho altro da raccontarvi. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao! Ciao!